Banca Mediolanum incontra cittadini, risparmiatori e clienti. Una serata con due temi importanti, i mercati, i rischi che si corrono, ma soprattutto come poterli superare. Ed ancora, altro tema importante, quello del patrimonio e della successione. La serata è organizzata da Banca Mediolanum ed è un'abitudine che noi abbiamo di incontrare i nostri clienti in questo modo, di informarli, di fare informazione finanziaria. Diciamo che adesso c'è un tema importantissimo che partirà da gennaio 2016, il tema del bail-in. Il governatore Banca d'Italia ci sta chiedendo, sta chiedendo alle banche, di informare tutti i nostri clienti. Noi questa sera vogliamo informare e estendere questa informazione ad altre informazioni che sono importanti, cioè quelli che sono i rischi che i risparmiatori possono correre in questo momento e soprattutto come starne fuori. Noi questa sera parleremo della tematica successoria perché siamo in un momento di grande, grandissimo cambiamento. Lo diremo comunque stasera, stanno ormai, tra poco aumenteranno le rendite catastali perché c'è già una legge sul catastro che è già operativa e è già partita. È partito un certificato successore europeo che coinvolgerà un po' tutte le persone in Europa che hanno la doppia cittadinanza e la paura è che potrebbero aumentare le imposte successorie, potrebbero diminuire le franchigie che oggi fortunatamente in Italia sono molto favorevoli perché lo diciamo sempre che oggi converrebbe morire in Italia perché a livello europeo siamo quelli che paghiamo meno di tutti e faremo stasera vedere il confronto con gli altri paesi dove a livello successorio gli altri pagano molto di più. Diciamo così la motivazione è dire alle persone che se magari c'è l'idea di far qualcosa converrebbe farlo prima piuttosto che aspettare magari di subire la decisione di qualche altro che potrebbe nel tempi brevi arrivare.